Quando evochiamo il piano Marshall, pensiamo a un intervento risolutivo e benefico per i momenti di crisi drammatica. Formula sempreverde ogni qual volta si parli di grandi investimenti, quante volte sentiamo dire «ci vorrebbe un piano Marshall» senza cogliere il valore storico di questo fenomeno, strappandolo al suo periodo, gli anni dal 1947 al 1951, decontestualizzandone il contenuto per applicarlo acriticamente al presente. Un saluto a tutti e bentornati, io sono Pietro Pinnapintor, in questo video vi propongo una sintesi sui concetti strutturali del piano Marshall, che da preciso progetto economico e geopolitico è trasceso a mito. Il progetto di Bretton Woods, che tutti conosciamo come Piano Marshall, ufficialmente si chiamava European Recovery Program, ERP, consisteva in un corposo stanziamento di fondi americani per ricostruire l'Europa occidentale devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Se lo chiamiamo così, è grazie al segretario di Stato George Marshall, già architetto della Vittoria Alleata e responsabile della politica estera statunitense, il quale ne fu il maggior rappresentante e il programmatore, non l'ideatore. Il 12 marzo 1947, le parole del capo della Casa Bianca scolpirono le linee programmatiche di quella che sarebbe passata alla storia come dottrina Truman. In netta discontinuità con la dottrina Monroe e l'isolazionismo apparente che aveva caratterizzato gli Stati Uniti tra le due guerre, essa si proponeva di risolvere la gravità della situazione che il mondo sta affrontando oggi, la quale imponeva di agire immediatamente e in modo risoluto. Affinché i paesi liberi dell'Europa non perdessero la propria libertà a causa di minoranze interne o potenze straniere. Chiara allusione all'Unione Sovietica, ora padrona dell'Europa orientale, vertice di un sistema di satelliti controllati direttamente e indirettamente attraverso una ramificazione dei partiti comunisti e delle organizzazioni che si ispiravano ai principi sovietici. Non ci furono dubbi sulle interpretazioni. Difatti l'adesione al piano, prima ancora della sua votazione da parte del Congresso, risultava aperta anche ai paesi dell'Europa orientale e alla Russia. Ma quando anche la cerchia di Marshall sperasse di coinvolgere qualcuno dei primi, nessuno desiderava veramente coinvolgere la seconda, che anzi Francia e Inghilterra si stavano adoperando di escludere, per quanto la diplomazia dei ministri degli esteri, riuniti nel gabinetto di Mosca, offrisse amicizia al verbo della stampa. Primo punto dell'ordine del giorno era la complicata situazione della Germania, che Francia e Russia avrebbero voluto punire, avanzando diritti sulle sue risorse. Prime fra tutte, carbone e acciaio. La politica degli Stati Uniti fu più prudente e meno emotiva, secondo le parole dello stesso Marshall. Si voleva evitare una nuova Versailles, la pace sbagliata del 1919, e quindi che la Fenice tedesca risorgesse dalle ceneri, portando con sé il rischio di una terza guerra mondiale. Tuttavia, Stalin non avrebbe accettato, come di fatto non fece, l'ERP, in quanto lo considerava uno strumento in grado di rifondare la forza del capitalismo made in USA in Europa, capace di sottrarre i paesi sotto il suo controllo, una condizione inaccettabile dall'imperialismo dell'Unione Sovietica, per la quale l'ERP rappresentava una minaccia, come tangibile espressione della politica del containment, della quale il diplomatico George Kennan professava la necessità, e che non poteva essere separata dalle implicazioni economiche del piano. Due mesi più tardi, il 5 giugno 1947, all'Università di Harvard, George Marshall si avocò, se non altro sul piano mediatico e diplomatico, la responsabilità degli aiuti che gli Stati Uniti si proponevano di offrire, seguendo una linea politica dichiaratamente non contro un paese o una dottrina, ma contro la fame, la povertà e il caos. Al netto della narrazione che innervava la propaganda degli USA, il piano prevedeva lo stanziamento di fondi a 16 paesi aderenti, la cui quantità sarebbe stata programmata annualmente in misura proporzionale al valore strategico di ciascun ricevente, schema traducibile in un'egemonia globale a geometria variabile. Uno degli aspetti più interessanti della grammatica strategica americana, emersi proprio nel carattere regionalistico che il piano Marshall assunse, in linea di continuità con il fallito tentativo di espansione del capitalismo degli anni 20 e con le politiche di finanziamento alla Gran Bretagna attuate durante la guerra attraverso il Land and Lease Act e la catena di prestiti, concessioni e aiuti che il declinante impero ricevette dal Nuovo Mondo, che per riconfermarsi tale necessitava di una ricomposizione del mercato europeo, non per rivoluzionarne l'essenza, ma per integrarlo nel sistema economico nordatlantico come consorzio in grado di garantire stabilità all'Europa, ma soprattutto agli Stati Uniti. Pur contendendosi il merito della vittoria sulle potenze dell'asse con l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti erano l'unica superpotenza che non avesse subito invasioni e devastazioni sul proprio territorio, se escludiamo l'attacco giapponese a Pearl Harbor. L'economia statunitense era stata esaltata dallo sforzo produttivo della guerra e godeva di una salute imparagonabile a ogni altro sistema economico dei paesi coinvolti nel conflitto. D'altro canto, proprio la buona salute del dollaro stava generando un surplus che doveva essere assorbito. Occorreva creare un mercato internazionale che favorisse le esportazioni, assorbendo il surplus e generando nuova ricchezza per gli Stati Uniti. I dollari erogati agli aderenti al piano, espressi in quantità rilevante con merci, che poi sarebbero state vendute sul mercato nazionale dei riceventi, generando entrate in valuta locale, imponevano vincoli di molteplice natura. Contestualmente all'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, OECE, antenata dell'Ocse, venne creata l'Amministrazione per la Cooperazione Economica, ECA, ufficialmente preposta alla facilitazione delle comunicazioni con gli Stati Uniti, ma che espresse la sua azione attraverso funzionari di sicura provenienza e fede americane, impegnati in un sistema di controllo delle informazioni. L'ECA aveva voce in capitolo in ogni struttura statale, riservandosi un rilevante potere decisionale sui prodotti da importare, rigorosamente americani. I dollari tornavano così direttamente negli Stati Uniti. I prodotti esportati non erano solo beni alimentari, ma anche materiali ad alto contenuto tecnologico, fondamentali nel disegno americano per creare un tessuto industriale moderno in seno all'area del vecchio continente di propria disponibilità. La propaganda americana elevò il piano Marshall a paradigma di civiltà, portatore di un comune sistema politico ed economico, un sistema democratico forgiato nel capitalismo liberista di stampo nordatlantico, ora armonizzato nel nuovo serbatoio di credito europeo. L'American Way of Life, il sogno di benessere e tranquillità, fu il baricentro socioculturale che legittimò la missione civilizzatrice di Washington, successo formidabile della Pax americana. La macchina a stelle e strisce promosse la crescita della mitologia del piano Marshall, facendo leva sul contrasto tra il suo modello e quello sovietico, trasmettendo ai paesi dell'Europa occidentale il suo sistema di valori, dalla concezione di bello e brutto a quella di giusto e sbagliato, accompagnandosi a una dimensione sovraordinata con cui raccontare se stessa per mezzo delle ideologie. E quanto all'Italia? Che impatto ebbe il piano Marshall sulla sua traiettoria? Già durante l'inverno del 1942, in seguito ai bombardamenti e ai danni che questi comportarono alla capacità produttiva, importanti settori dell'imprenditoria italiana, prevedendo un'imminente sconfitta del regime fascista. Si prodigarono per avviare un dialogo con gli alleati e il Comitato di Liberazione Nazionale. I maggiori esponenti della grande industria, Agnelli, Cini, Faina, Donegani, Pirelli e Volpi, finanziarono la resistenza per rafforzare la propria scelta di campo. Una dissociazione politica che rientrava nella stessa logica per la quale gli industriali avevano sostenuto il fascismo. Una prassi di sicurezza basata sul rapporto di reciproco sostegno tra Stato e Industria, che ora avrebbero dovuto siglare un nuovo compromesso, smantellando il sistema di sviluppo autarchico, non ricostruendo ma riprogettando un sistema di sviluppo, secondo la definizione della celebre economista Vera Zamagni. Nel secondo dopoguerra italiano, la democrazia cristiana esercitò questo equilibrio, stringendo un'alleanza con Confindustria. L'intenzione di aprire al mercato, dopo la chiusura cristallizzata dell'autarchia, costituiva per gli industriali un'occasione per ossigenare l'economia, avendo la copertura dai governi di unità nazionale sul congelamento dei salari come approdo di stabilità. Sul piano politico, De Gasperi divenne fin da subito l'unico interlocutore credibile per gli Stati Uniti, che contribuirono alla sua vittoria nelle elezioni del 1948 con l'intervento della CIA, arginando ogni eventualità di vittoria del blocco delle sinistre. È in questo quadro che va letta la dissociazione forzata di togliatti dal piano, al quale inizialmente era favorevole, per volontà di Stalin, di separare ogni organizzazione comunista dai tentacoli seducenti del capitale americano e il conseguente allontanamento del Partito Comunista Italiano da ogni linea governativa. L'Italia, è opportuno ricordarlo, aveva il più grande partito comunista dell'Europa occidentale, o se vogliamo, Atlantica, e ospitava in nuce anche un sistema di sindacati che si sarebbe rafforzato nel tempo. Nell'ottica statunitense, l'Italia doveva allinearsi al blocco americano e il modo più efficace per evitare che cadesse nell'orbita sovietica era sostenere uno schieramento conservatore afferente alla destra liberale, in quel momento incarnato da Alcide De Gasperi e appoggiato dalla classe industriale. Per quanto De Gasperi non rappresentasse esattamente un modello perfetto agli occhi degli americani, a differenza di quanto comunemente si crede, la sua era l'unica scelta politica praticabile nello stivale. Il viaggio di De Gasperi in America nel 1947 fu il primo passo verso l'adesione dell'Italia al piano Marshall e nel medio periodo al Patto Atlantico del 1949. Lo statista di Pieve Tesino seppe garantire all'Italia gli aiuti dell'ERP, rafforzando la sua posizione attraverso il consenso politico interno che ne derivò. Quale eredità possiamo conferire al piano Marshall? Se una tradizione storiografica di matrice anti-americana vi vedeva la massima aggressione del capitalismo statunitense, il piano Marshall nel suo complesso si può considerare come un'opera politica intelligentemente calcolata, il cui valore strategico non deve essere subordinato all'impatto economico che ebbe sul cosiddetto mondo libero. L'intelligenza del piano consistette nella sua capacità di offrire un'alternativa positiva all'umiliazione della Germania, già accaduta all'indomani della Grande Guerra, dimostrando da parte americana un intuito all'altezza delle sue ambizioni, corrispondente alla maturata consapevolezza del proprio ruolo di egemone nella scena internazionale, ascesa necessaria sul piano strutturale, presentatasi come un impero su invito, come formulò nel 1986 lo storico norvegese Geir Lundestad, che così volle illustrare il filo rosso che aveva unito le varie amministrazioni della Casa Bianca verso un ecumenico destino. Non per convinzione ideologica, né secondo retorica, un impero di fatto, capace di comprendere meglio dell'Unione Sovietica, che spostare la battaglia dal campo territoriale a quello economico poteva conseguire successi di ben più ampia portata, nel tempo e nello spazio. L'agenda geopolitica, espressa dagli apparati di Washington, deve essere letta alla luce della dipendenza economica che essi intendevano installare in Europa e che tuttora, a 70 anni di distanza, è indice della politica commerciale degli Stati Uniti, potenza importatrice di prima istanza e vessillo culturale alle nostre latitudini. Il culto dell'economia, scambiata irreversibilmente con la strategia, in una compagine continentale, fortemente economicistica.